nrf 24 bidirezionale oggi vedremo come usare due schiedine nrf 24 l01 con due arduini in una comunicazione bidirezionale quindi avremo primo arduino con un pulsante e un led dall'altra parte la stessa cosa i due si scambiano informazioni cioè posso accendere il led del secondo arduino premendo il tasto del primo e viceversa il trucco sta nel definire un protocollo quindi avremo un primo arduino che fa da master e quell'altro da slave il master è quello che comanda e dirige il gioco vediamo subito come fare oggi proviamo a costruire una comunicazione bidirezionale con gli nrf 24 quindi avremo una prima configurazione con un arduino collegato alla scheda nrf 24 via spi faccio la connessione semplificata questo primo arduino che funziona da master è quello che comanda il gioco avrà un led che andiamo a collegare al pin 2 quindi al pin 2 di arduino resistenza da 390 il solito led colleghiamo anche un tasto al pin 3 questo pulsante mettiamo la resistenza di pull down da 10k dall'altra parte 5 volt quindi questo è il master dall'altra parte abbiamo uno slave fatto nello stesso modo quindi abbiamo un arduino abbiamo l'nrf 24 collegato via spi e anche qua andremo a mettere sul pin 2 il led e sul pin 3 il tasto collegato tra 5 volt e ground tramite la resistenza da 10k quando premo il tasto qui si accende il led sullo slave e viceversa avremo due pipe tra le due schedine quindi un primo pipe quindi se questo qui è il master questo è lo slave quindi il master apre un pipe cioè un canale di comunicazione verso lo slave e lo chiamiamo 00001 poi avremo un secondo pipe di ritorno che va da slave a master è 00002 queste sono stringhe che usiamo per identificare i pipe ricordatevi che ogni scheda può aprire più di un pipe di lettura per il collegamento vado a riprendere semplicemente la slide dell'altra volta quindi questa qui la schedina nrf 24 vista dall'alto con l'antennina il quarzo il chip questi sono i pin che vedete da sopra che la scheda se andate a prendere è fatta in questo modo e ai pin che scendono verso il basso quindi i quattro pin questo qui è il quarzo che vediamo sopra e qua sopra c'è l'antennina quindi guardandoli da sopra abbiamo vcc ground poi abbiamo scn o snc a seconda delle librerie viene chiamato in vari modi ce chip enable sck miso mosi e l'irq che non usiamo collegateli così come indicato quindi il miso sul pin 12 irq non lo colleghiamo il mosi sul pin 11 di arduino sck pin 13 ce pin 7 scn pin 8 vcc sul 5 volte gnd sul grano di arduino la libreria che usiamo è quella che trovate a github.com barra nrf 24 barra rf 24 la trovate anche inserita nel mio github dove potete scaricare sia gli sketch che la libreria guardatevi il video dell'altra volta per vedere come andare a installare la libreria che è in formato zip quindi va scaricata e poi importata passiamo alla parte sketch partiamo dal master facciamo include delle librerie che ci servono abbiamo spi.h appunto per la spi poi le librerie per l'nrf nrf 24l 01.h e poi la copiamo che è quasi simile ne servono due l'altra è rf 24 queste ci forniscono un oggetto rf 24 che rappresenta la nostra radio andiamo a inizializzarlo specificando i pin 7 e 8 che sono quelli su cui andiamo collegare rispettivamente il ce e il csn della nostra schedina ci servono poi degli indirizzi come abbiamo visto abbiamo due pipe quindi avremo un const byte diciamo addresses questo è un doppio array un array di array di byte bisogna fare così quindi con le graffe e qua dentro metteremo 00 01 e 00 02 che sono i due pipe che andremo a creare purtroppo la libreria vuole questo formato quindi perché un array di array perché abbiamo gli array da sé che sono quelli interni e questa la stringa è vista come se fosse un array di caratteri che trattiamo però come byte nel setup inizializziamo i pin quindi pin mode abbiamo detto il 2 è un led quindi è output poi abbiamo il pin 3 che invece è un ingresso su cui colleghiamo il pulsante quindi input inizializzando la radio con radio punto begin la radio è pronta e qua andiamo aprire le pipe radio punto open writing pipe e gli forniamo il nome del primo canale quindi del prima pipe che in addresses e mettiamo 1 poi abbiamo invece l'altra pipe che è la reading pipe che è la reading pipe e qui mettiamo è la 0 possiamo aprire più di una facciamo la numero 1 e la colleghiamo a questo indirizzo impostiamo poi la potenza radio punto set pa level e qua gli mettiamo rf24 underscore pa min quindi minima potenza punto e virgola allora il loop funziona così quindi questo qui è il master quindi quello che comanda il gioco è lui che passerà dallo stato di trasmissione a quello di ricezione il master si mette in trasmissione legge lo stato del pulsante che può essere acceso spento lo trasmette comunque allo slave o agli slave dopodiché si mette in ricezione vede se gli slave stanno mandando delle informazioni se sì con le informazioni che riceve va a pilotare lo stato del led e dopodiché ripete il suo ciclo quindi facciamo radio punto stop listening per metterla in modalità di trasmissione quindi qua vado poi a leggere lo stato del tasto lo trasmetteremo sempre sia che sia premuto oppure no quindi abbiamo int bt uguale digital read di 3 quindi leggiamo il tasto questo potrà essere alto o basso quindi possiamo fare radio punto write qui abbiamo visto l'altra volta bisogna passare la variabile per indirizzo quindi end bt e size of bt anche se poi probabilmente non viene modificato però vuole che venga passata per indirizzo mettiamo un piccolo delay per far sì che la trasmissione possa avvenire dopodiché mettiamo la radio in ascolto quindi abbiamo trasmesso lo stato del tasto quindi che può essere alto o basso qua ci mettiamo in listening quindi facciamo start listening qui siamo in ascolto creo una variabile int su remote bt quindi pulsante remoto lo metto alone in default e leggo se arriva qualcosa quindi faccio while radio punto available available quindi se arriva qualcosa allora lo processo altrimenti vado avanti quindi se arriva qualcosa qua mi troverò un radio punto read gli passo la variabile quindi end remote bt e commerciale remote bt size of remote bt quindi se arriva qualcosa viene scritto all'interno della variabile remote bt a questo punto possiamo usarla direttamente nel caso venga modificata ovviamente passerà da low ad high quindi posso fare digital write d3 con remote bt alla fine del mio loop mettiamo un piccolo delay per permettere la trasmissione e lo scambio dei dati senza problemi ok il nostro master è pronto creiamo un nuovo sketch copiamoci quello che abbiamo fatto dall'altra parte quindi lo mettiamo nel nuovo sketch questo è lo sketch per lo slave lo slave è impostato come hardware esattamente nello stesso modo dovremmo fare qualche piccola modifica allora partiamo dall'alto le librerie vanno bene quindi teniamo quelle la radio è impostata anche questa sui pin 7 e 8 gli indirizzi vanno bene ancora così quindi salvati con questo array nel setup andiamo configurare il 3 come ingresso perché abbiamo il tasto facciamo begin della radio e qui attenzione writing people questo è lo sketch che ho copiato dal mio master devo mettere invertiti gli indirizzi quindi 0 e reading pipe 1 quindi in modo che si scambino set p a level lo lasciamo p a min e passiamo al loop nel loop del mio slave le cose sono un po' diverse perché visto che il master continua a trasmettere quindi trasmette sempre qualcosa che è lo stato del suo pulsante nello slave riceverò sempre qualcosa quindi gira tutto facciamo così radio punto start listing in modo da mettere la scheda in ricezione mettiamo qua un piccolo delay per permettere i tempi di propagazione e trasmissione qua facciamo if radio punto available mettiamo le graffe perché comunque il master trasmette sempre qualcosa se ricevo qualcosa allora intanto lo elaboro quindi faccio while radio available tutto quello che mi arriva faccio una variabile led che metto allo come vi ho visto l'altra volta faccio radio punto read di end led quindi la variabile passata per indirizzo and size of led che la libreria vuol sapere esattamente quanti dati scrive dopo di che applico digital bright di led digital bright sul pin 2 per la variabile led che ho ricevuto così ho elaborato le informazioni relative al tasto poi prima di procedere facciamo un piccolo delay per permettere la propagazione dei dati e sempre all'interno del mio if una volta che ho ricevuto qualcosa dal master gli ritrasmetto indietro delle informazioni quindi faccio radio punto faccio stop listening mi metto in modalità trasmissione crea una variabile int bt in cui metto lo stato del tasto digital read 3 e a questo punto lo trasmetto al master faccio radio punto e così abbiamo concluso il nostro giro compiliamo il tutto carichiamo e verifichiamo che tutto funzioni correttamente il video di oggi si conclude qua come avete visto è semplice realizzare delle reti che utilizzano queste schedine il problema era solo trovare la libreria adatta ci ho perso un po di tempo però una volta che avete trovato la via poi è tutto semplice ci fossero dubbi domande lasciatemi un commento vi risponderò appena possibile vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao